Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale o domenicale con Farming Simulator 19. Hi everyone, welcome to our rendezvous of Sunday with Farming Simulator 19. Today we will plant some mice and do a lot of stuff, a lot of work. Oggi andremo a seminare il mais, ovviamente. Dobbiamo anche comprare la lama adatta. So we have to buy the right blade. So now let's go buy. Andiamo a comprare. E come sempre la domenica ci sarà una mini maratona che durerà più di due ore. As every Sunday we will do our long live stream. A kind of marathon as we say in Italian. Andiamo a comprare. Ok, let's go andiamo. Andiamo ad acquistare alla nostra lama per raccogliere il mais. Let's go buy the cutter that we will use for harvesting the mice. Andiamo ad acquistare alle pause. Let's go andiamo a comprare. We're looking at the­ Info delitto. Andiamo a comprare la società tras Accept예요? Spegniamo la treppia, altrimenti le batterie si scaricano. I have to switch off the Harvest Machine. Questa è... 8 metri... 12 metri... 9 metri... 5 metri... 5 metri... 5 metri... 6 metri... 6 metri... 6 metri... 6 metri... 7 metri... 7 metri... 7 metri... 7 metri... 8 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 metri... 9 metri... 9 metri... 10 metri... 10 metri... 10 metri... 11 metri... 11 metri... 11 metri... 11 metri... Sting machine. Vediamo anche una lavata dopo. Il stringer vediamo ancora. Ora. E mentre noi iniziamo i lavori sul campo, mettiamo a caricare un altro po' le batterie sia per un fatto di prudenza, ma soprattutto per essere pronti in caso di una lunga sessione di lavoro sul campo, non avremo problemi. 15 secondi, ok, non è un problema. Allora. So. I will recharge battery of the harvesting machine during the time that we will work on the fields. Nel frattempo che carica la trebbia, vediamo cosa bisogna fare. Bisogna usare la calceviva. I terreni hanno bisogno di calceviva. Il campo necessario di lima. Allora. Allora. Quasi quasi farei lavorare il nostro amato. So. John Deere. We will do the work, the job, with our below it, below it, below it. Sorry for my bad English. With our John Deere. With our John Deere. Let's try. Let's try. Do the job. This way. I bought. All the machinery used. There is a mod that allows you to buy machinery and other things used. The mod. Ecco. Con la mod dell'usato si possono comprare sia i macchinari che le attrezzature usate. Come la lama che abbiamo acquistato adesso per raccogliere il mais. This. Used. Equipment. As the blade. That I bought. For harvesting. The mice. Jamais. As. The E la nostra maratona domenicale ha avuto inizio. E la nostra lunga stream, come dice in italiano, maratona, maratona è iniziato. As well, the soft gaming. Oh yes sir, I'm 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 gaming. Patrizia 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 Oscarrafon Oscarrafon E bella mamma sui E vittos Vitto È beautifullo Oscarrafon 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 tutto bene presidente molto bene allora vediamo un attimo così per correttezza gli nominiamo tutti e quattro tutti e tre anzi la zappa storta jason farm diamo un attimo un'occhiadina se mi sono scordato qualcuno perfetto perfetto sono stato impeccabile nel senso che mi sono ricordato dei canali che portano a farming so please take a follow follow is free ma tu lo sai che ho dovuto vendere ma domenica scorsa c'eri ho venduto la bellezza di 1600 litri di semi di soia tra semi di soia e venticinque mila litri di latte ho guadagnato la la bellezza della somma di 500 mila 530 mila euro ero 200 quello che ho nel silos si ho ancora tanta soia e con quella sarei avrei sfondato il milione tranquillamente solo che al momento non conviene venderla perché me la pagano pochissimo 2189 il massimo quando me la pagano anche quasi 3000 euro quindi per il momento mi tengo buono per arrivare un milione di euro vendendo la soia semi di soia ci vorrebbero 3 per 8 24 240 250 mila litri di soia che sfonderebbe abbondantemente il milione e io dovrei avere credo ancora centinaia di migliaia di soia che potrebbero fruttarmi quasi 500 mila euro per il momento però tengo ad occhio il prezzo poi quando inizierà a salire allora poi farò la vendita e debiti zero tutto in positivo quasi ma infatti tutti i macchinari che ho acquistato e che sto acquistando li sto acquistando diciamo così con con i fondi del fondo cassa allora per rimanere per coprire l'area devo tenere l'occhio dove c'è il contagiri del mezzo e quando la rega bianca sta al di sopra del del contagiri del quadro di strumentazione allora vuol dire che quella lì è l'area in cui è coperta dalla l'alceviva eh ma sai io prima di comprare tutta questa attrezzatura qua ne ho fatti diversi di giornate qua su farming con con il mitico fiat 180 il trattorino quello lì insomma il fiat il fiat agri poi l'ho fatto con con tutti i mezzi però io molto economici all'inizio e oggi gli animali allora i cavalli solitamente quando li vendi ti fruttano cinquantamila paparelle a testa cinquantamila euro ogni cavallo cada uno come diceva il grande dottor e quindi recuperi poi devi io non sono un esperto farmer però questo è quello che faccio io poi devi studiarti sulla mappa devi capire qual è il prodotto che ti pagano di più in base a quello poi ne devi produrre in quantità industriale alternandoti ovviamente alla cultura che poi ti occorre per mandare avanti l'azienda e qui per esempio questa mappa latte e semi di soia guadagni una bellezza infatti oltre imparato i prodotti quali sono appena ho l'opportunità semi di soia come dice a Napoli adzfun in abbondanza ma che devono uscire devono strabordare dal silos e poi dopo il latte dove le mucche che tutto insomma le coccoliamo perché oltre a produrre latte producono concime e quello il concime poi mi serve per fertilizzare i campi per il momento non ho mosso ancora nulla però posso assicurarti che ne hanno prodotto veramente tanto vediamo subito stiamo a concime 326 mila litri che però su questo campo li consumi subito subito e quindi con la mod degli scarti di lavorazione della trebbia che li trasforma in in fertilizzante mi permette di risparmiare il 50 per cento di fertilizzante quindi sono soldi che si recuperano e possono essere investiti in attrezzatura piuttosto che acquistare qualche animaletto e oggi faccio una mini maratona perchè devi sapere la zappasto questa sorta che è la domenica la live dura più di due ore domenica scorsa è durata quasi quattro ore quindi è una sorta di maratona che chiude la settimana con la produzione di video delle live alla salute cin cin e faccio pure un po' di ASMR si è sentito quando l'acqua scendeva ottimo questo questo è la ASMR gaming ogni tanto si fanno un po' di attivazioni ogni tanto si fanno un po' di attivazioni come diceva Totò un po' bitter bitter e oggi qua non so se c'era all'inizio metterò metterò un po' di mais perchè penso che nel prossimo episodio metterò il pollaio e quindi e quindi potrei recuperare altri soldini con le uova che le uova le pagano 4.000 euro ogni mille litri vediamo un po' vediamo un po' quanto le e quindi metto pure un po' di mais così poi quando compro le le gallinelle e c'è un po' di roba d'acqua da dare la piscina con fiamme questo è vero ma guarda che c'è anche una mod dove ci sono i fuochi d'artificio ora non ricordo in quale canale di quale streamer l'ho visto ma è stato qualcosa di bellino aspetta mi sa che era di pod podrak saluto anche podrak e sai lui fa delle simulazioni di con farm su farming fa delle simulazioni tipo gli incidenti queste cose qua e l'altra volta non mi ricordo che simulazione fece mi pare la scorta di un un personaggio importante e alla fine quando il personaggio arrivò all'aeroporto c'erano i fuochi d'artificio ma ti dico la verità podrak c'ha una fantasia incredibile è veramente bravissimo oltre vabbè a Nick a Miticaccio a Robymel e Nora altri tre streamer bravissimi che stimo e che seguo e che approfitto pure per salutare non so se guarderanno mai questo video o magari se qualche qualche persona che insomma va a seguire anche nel suo canale o meglio che del suo canale viene anche nel mio canale magari senza spammare in chat li salutate e mi raccomando seguite la zappa storta altrimenti sono dolori stiamo a buon mondo qua eh mi sa ok mi sa che quasi quasi con questo calore una piscina confiabile la metterei eh questi in realtà sono tre campi tu ce l'hai la mappa la DLC Alpine questi sono tre campi che ho unito e sono il campo ora ti faccio vedere 14 15 e 16 ora lo lascio vedere un po' più di tempo eh sì allora devi soltanto rendere un campo unico non so se noti a sinistra dell'immagine se se da pc si nota una lune se guardi verso la parte alta dello schermo a sinistra si nota una lune una linea quella è la linea che divideva i campi in due parti si intravede con i campi uniti i campi e dalla riga centrale si recuperano diverse migliaia di litri di raccolto e si intravede una un belino rosa biancastro ma si vede appena appena e comunque lì dopo un bel po' di tempo facendo un sondaggio con alcuni fan poi per parte mi chiedo scusa con alcuni follower del canale mi dissero mi avevo una mezza idea e chiesi loro se avrei dovuto secondo loro unire i tre campi e quindi e quindi siccome poi il risultato cioè siccome poi il risultato è stato quello di unire i tre campi e quindi li ho uniti guarda che io anche io all'inizio non ho mai tenuto questi tre campi qua il campo dove sto camminando io adesso è quello seminato ad erba nella mappa originale e poi l'ho riconvertito in in campo seminato ma io pure all'inizio sono rimasto per parecchio tempo su infatti nella parte piccolina poi man mano ci ho impiegato più di un paio di mesi prima di espandere e quindi acquistare prima il terreno il 14 ma perdono il 16 che era il più piccolino insieme al 17 poi quando ho iniziato a recuperare i soldi dalla vendita dei dei semi di soia ho acquistato anche gli ultimi due campi so I was talking with my friend La Zappa Storto about the 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 big field that are three three fields is the the 14 15 and 16 before buying these two fields I worked a lot on the small terrain around the farm where there are the animal so I I played for at least two months two or three months before buying and the field here the 60 70 40 and 15 e ogni tanto qui ho parlato bello e and and quasi resecca la gula what 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 storta la zappa storta la un nome una garanzia Pensa che hanno inserito questa mappa qua in farming 22, inclusa nel prezzo, chissà come l'avranno migliorata. Sono veramente curiosissimo. Purple rain, purple rain. Allora, oggi mi sa che utilizzo il John Deere per fare tutti i lavori, perché solitamente utilizzo il class quello con i cingoli ed è abbastanza complesso per me fare le manovre. È estremamente sensibile alla sterzata o alla virata. Mentre invece questo qui gommato è tutta un'altra cosa. Ma allora vediamo se abbiamo mancato qualche punto. Allora. Calceviva richiesta. Ok, va bene. Fertilizzazione fatta una mezza schifezza, anzi una mezza dosa. però è perché la trebbia dove non scarica lo scarto di lavorazione non fertilizza. 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 Perfetto. Questo lo mettiamo a posto. Anzi quasi quasi. Io direi di rabboccarlo. Qu Brady. Perfetto. Perfetto. Perfetto permesso sono lasi carbone. rigidità. Mamma mia quante spese, la trebbia elettrica ho acquistato, la spesa di oggi è stata la lama per raccogliere il mais, allora... Sì, non è vero. come corre allora andiamo a caricare un po' di erbicida che è rimasto allo shop let's go review the reservoir with erbicite remain at the at the shop poi l'altro macchinario che devo comprare appena ne avrò l'occasione è appunto la macchina questa qui di serbante liquido e fertilizzante liquido è una di quegli acquisti che reputo abbastanza importanti per il momento continuiamo a lavorare con questo one of the machinery that I would change is this machine the spreader the sprayer here with a bigger one but at the moment I will go with this one all direttore ma qua mica la leva si è bloccata neanche qua qua c'è bisogno dell'apporto tecnico della chat che la chat fa da regia fa un po di tutto rabbocchiamo tempo ma è aperto per pochissimo ok so let's go i cavallucci ci vediamo l'apporto see you later ok qui se ti ricordi c'era una stradina qua al centro se guardi indietro se guardi attentamente le sfumature del grigio in coda nella parte in fondo dove c'è la rotonda noterai una chiazza bianca due chiazze laterali e una piccola a centro quello è il sentiero della vecchia della vecchia striscia di terra che separava i campi gli striscia che potete vedere si guardano sull'interno sull'interno si guardano dove were the pub, were the route. Adesso metto un po di mais, infatti ho comprato la lama apposta, 89.000 euro mi pare che ho usata, l'ho pagata, se non ricordo male 72-73.000 euro usato. Questo modello usato è ottimo, fa risparmiare veramente un botto ma un botto di di soldi quando acquisti i mezzi, infatti la maggior parte dei mezzi li acquista tutti quanti usati. Come si dice in gergo, tutti in autonomia. Quella Maurizio Max, buonasera per gli amici che guardano il canale. Maurizio Max è un altro carissimo amico, streamer o diciamo, diciamo streamer, il mitico la zappa storta. C'è qua con noi Maurizio Max, è ziodab qua che cerca di tenervi un po di compagnia la domenica. i professionisti di farming sono altri, tra questi c'è anche la zappa storta. Però ragazzi non vi offendete ma il maestro è Jason Farmer. Non mi dite niente, voi siete bravissimi però quando Jason Farmer fa le live, e voi penso che anche voi siete d'accordo, no? Mi sta divertendo. Jason Farmer. Eh, mi sa che gli devo dedicare un... mi sa che è proprio il GG per Jason Farmer. Siete tutti bravi però, Jason Farmer è il libretto delle istruzioni vivente. io ero, 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 er e è molto molto bene a raccontare tutto sul farming. GG Se siete d'accordo, mandate qualche suono. Eh buh, mo senti? E' un altro streamer molto bravo e anche 9g0 oltre alla zappa storta, a Gjason Farmer. Aiaia, qua mi sa che è malo di me. Ah, mi sa che io sono uno degli ultimi perché qua è vero che farming ci gioco da praticamente da quasi quante uscite. Però diciamo che unlike a Pro siete veramente in pochi che riuscite a giocarci. Quora? Grazie a tutti La zappa storta La zappa storta La zappa storta La zappa storta Il Maurizio Max che c'è Così ho fatto una bella canzone E ho incluso tutti e due Dovreste secondo me creare una clip Su questa canzoncina E condividerla nei vostri canali Avete salutato tutti quanti Tutti quanti Sì monne se tottenue Chui bamboi Sì Eccoci qua GG Bene Questo corre Quando corre il trattore vuol dire che Non sta Facendo praticamente nudo Come dicono gli amici siciliani Che anche loro Come gli amici sardi In questo momento Stanno vivendo un periodaccio A causa di questi incendi Mi auguro che Magari qualcuno di loro Guardando le mie live Se gli capi Si riesca a svagare Un pochettino E torniamo a noi Allora Diamo un pochettino di soia Soio là Troppo poco 2100 No Sarebbe come svendere Non va bene Aspido Che posto sei Che posizione Formula 1 col tasto F1 Che tasto è qua F1 Ah il menù Maia 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 Allora 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 anche lui ha comprato Il Ferrari Però è trattore la mod Sai l'ho vista oggi In un video di Nick Un trattore Un trattore Col motore Ferrari E un trattore da fruttito Non male Non male per Fare lavori Leggeri A 110 kV I massimi di potenza E mi pare Se non ricordo male A 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 con 10 bits grazie mille 10 grazie presidente grazie mille profittiamo alla salute grazie mille per il sostegno presidentissimo ciao la zappa storta grazie per il contributo grazie soprattutto per essere passato in live a farmi un po di compagnia qua e come si dice a napoli da solo mi sarebbe venuta a poco un rio grazie mille poi passi nel tuo canale quando inizia a streamare buona passeggiata quindi se diciamo mezze ferie ma ti stai facendo riposo ciao la zappa storta grazie ancora per tutto mi raccomando amici seguite l'amico la zappa storta please friends follow our friend la zappa storta thank you mi raccomando amici Volo come il drone Ma drone non è. Sembra un drone ma non è. Sembra talco ma non è. Serve a darti l'allegria. E lo so è lo zucchero filato. Vi chiamano tutore... Vi chiamano capone i grandi di bambini. Lavoro dentro ai grandi magazzini. Sti baffetti qua è tutto raccolto verso... Direi che siamo tutto sommato. Un po' musica musica Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Mi sa che devo installare la GPS qua, la mod del GPS assolutamente, che su questo campo qua è sempre un'impresa. Fare la voce decentemente. I must install the GPS mode, because working off this big field is very hard. Oh, meno male che abbiamo tagliato la testa al campo qua. Ma almeno così apparentemente è più corto il giro. Oh, meno male. Oh, meno male. Mi auguro che questa musica in sottofondo sia di vostro gradimento e che vi permetta di passare qualche ora insieme a ZOW. In maniera rilassata. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì RELAX 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 Ticlo, ticlo... Rilassati... Scuerte di problema... Forgot your problem... Forgot everything... Everything... This is my dog... Sorry... Eeeh... Il mio cagnolone... Ha quasi 12 anni di... Di vita... He's 12 years old, my dog... Ok... Ok... Maurizio Max è sparito... Mi raccomando se... Se lo vedete il Maurizio Max... Salutatelo altrimenti... Chiamate a chi l'ha visto... Ah... Menomani... Com'è finita la gara... Ti avevo dato per disperso... Stavano nascendo già... I miti attorno a te... Qualcuno diceva... Che... Ti avevano visto... Spingere un... Un trattore Lamborghini... Ma non quelli... Quelli la da tagli... Quelli la un po' più recenti... Quelli belli muscolosi... Ah... Pure tu... Cosa stai facendo... Stai arando... O stai... Preparando i formaggi... Scommetto che anche tu... Stai per seminare... Il mais... Ho capito come fai... Stai facendo... Per la serie... L'appetito viene mangiando... Ottimo... A proposito di filo... Dopo... Aver seminato... Faccio la... Mia pulitina... Attorno al campo... Così raccolgo un po' d'erba... E la mando... Ad essiccare... Sono mezzo salame... E quell'altro mezzo... L'hai... L'hai nascosto... Perchè altrimenti... Poi dopo... Non avresti potuto... Ehm... Assaggiarlo con calma... Ehm... 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 Cosa... In cucina... Ehm... Che... La collaboratrice... Ehm... Gli deve preparare... Qualcosa da... Da mangiare... Ehm... E allora arriva la... La collaboratrice arriva con uno sfilatino di pane... E dice... Quante ne devo tagliare? fa così, così, così dice no guarda tu prendilo lo apri in metà e poi ti metti salame prosciutto, porfetto così stai facendo tu e poi pensa che c'è una canzone di non so se tu lo conosci Tony Tamaro è un cantante napoletano che ha inventato un genere che si chiama musica tamarra non so se è presente Checco Zalone il personaggio di Checco Zalone ecco il modo come parla molto probabilmente si ispira a quel personaggio di Tony Tamaro che non è altro che Vincenzo Sarnelli in arte Tony Tamaro e c'è una canzone che si chiama l'animale dove c'è un punto in cui inizia a rappare e dice Molignano, Polvolone, Polfutile, Polimone insomma nomina tutta una serie di pietanze leggere leggere si fa per dire magari se ti capita di andare su YouTube basta che scrivi Tony Tamaro l'animale e ti esce questo vecchissimo rap degli anni fine degli anni 90 e si parla della mia beata gioventù qua è un è un cantante forse la canzone più famosa attualmente è e porto tre route io guido la pecar o tre route rappiage oppure la canzone dedicata a un pallone che si chiama Super Santos Super Santos Super Santos una macchia ad arancione in mezzo al blu in mezzo al blu e questa si chiama improvvisazione o forse si potrebbe definire tale andiamo avanti stendendo proprio a filo di lama sto facendo proprio il pelle contro il pello fammi guardare avanti altrimenti qua rischio di lasciare qualche pello di raccolta l'hai visto qual è? il tre route il tre route oppure Super Santos ah quello lì l'animale quello di Tony Tamaro allora fai una cosa ora ti consiglio un'altra ah quello di Patrizia allora vediti guardati quello là aerobic Tamar Dance oppure fai una cosa scrivi il rock dei tamarri questi sono video della fine degli anni 90 inizio 2000 probabilmente quelli lì che vedi o alcuni sono originali propri degli anni 90 è un personaggio simpatico che si è creato Vincenzo Sarnelli in arte Tony Tamaro il grande Vincenzo Sarnelli e porto tre route io guido la pecaria tre route la pecaria della pecaria e pensa Maurizio che hanno fatto anche alcuni fan di Tony Tamaro hanno tradotto la canzone del o tre route ovvero la moto la come che la chiama insomma comunque dell'avecar che l'hanno tradotta in inglese ne ho trovati un paio simpatici economico però questo John Deere non consuma tanto bravo John però qua hanno lasciato un baffetto finale tre fette di salame non hanno fatto male la moda alimentare un vecchio spot degli anni 90 nostre job è going on so far so good battisco no 1 2 3 1 5 6 Maurizio Max è sparito, sta lottando insieme agli altri compagni di squadra per vincere il campionato mondiale di Formula 1. Il mio amico Maurizio Max in questo momento sta combattendo per vincere il titolo di Formula 1 world champion title. He's running fast and furious. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sorry, scusate. Grazie a tutti. Sono le 9.23 nel gioco. Grazie a tutti. Perfetto. 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 Appena hai sentito parlare del Super Santos sei impallato. Che piccino. Amma mia che brutta battutaccia, scusami. Non farci caso. Ogni tanto capita di fare le battute queste qui da 50 centesimi. Puoi utilizzare anche un software gratuito che si trova su Steam. Si chiama Driver Boost. Io lo utilizzo. In pratica gratuitamente ti permette di fare l'aggiornamento dei driver del PC. Quelli ottimizzati per il gaming. In più ti offre anche un software che ti sblocca la memoria del PC. Stesso all'interno di questa applicazione. Infatti per fare la live e giocare devo liberare un po' di memoria. e quindi questo programmino fa l'utile il dilettevole. Quando vuoi fare l'aggiornamento basta che lanci il programma, fai la scansione dei driver e lui ti dice quali sono i driver da aggiornare. Il computer va che è una bomba. Gratuito. Ahhhh. Ecco. E' quella la. Prende parecchia banda. Anche se non sta attingendo le fonti dai server. Ma funziona ancora? Io ho all'inizio degli anni, cioè alla fine degli anni 90, inizio 2000. Ho conosciuto il Napster. Poi WinMx. Poi ho scoperto che esisteva YouTube. Nel 2005. quando YouTube non era ancora così famoso. E' la prima cosa, il primo video, ricordo ancora il primo video che ho visto su YouTube. era un video delle frecce tricolori. 2005. E dal 2005 a oggi ne sono passati di anni. come è stato fatto sto lavoro? Ok. E' abbastanza deciso. Fammi cambiare schermata. Ok. qui vuole un bell'applauso perché ho appena finito di di areggiare di usare l'erpice a disc diciamo che ho appena finito di pulire il terreno Ale primo step è stato fatto primo step fatto Ah no, credevo fosse... ma questo è il bordo del terreno, credevo avessi tralasciato un po' di cose qua. E ballerino come se carino sotto la luce si riflette l'orecchino, occhiali da sole e codino a raffanirlo come balli bello, come balli bello. All right, all right, all right, arab and apple and my sprite. That's all right, very well. Ambo faggito te. Allora, la prima parte del video è andata. The first part of this video and of this work is done. Now we have to plant mice. I bought a blade for the mice, for the harvesting machine. Ok. Ok. E qua mi sa, mi sa che ci addormentiamo. Mi sa che... vabbè, adesso... Mice. Ok. I use a mod that allows you to create your seeds, a kind of super seeds. Ok. E io vorrei col meccas intenzimento dell'adoresurde Web Data Network colmone. Ok. 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 E io faccio il mesier cibo per il legiccio di queste estremite. e cominciamo e cominciamo a volare nel cielo infinito volare oh 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 cantare oh 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 nel blu dipinto di blu felice di stare lassù con te oh yes ma la dosu la ciuman loini osu la mistan frondatti andiamo avanti frondatti 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 fronacci frondatti 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 Alla prossima. Rilassati, rilassati, stai tranquillo, I'll do the job for you, farò io il lavoro per Rilassati. 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 Andiamo avanti poi dopo. La mod per il formaggio per il momento no. Non l'ho ancora utilizzato. Anche perché qua il latte me lo pagano una fortuna. Ma quando dico tanto è tanto, 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 assai, assai. Rilassati. Però un pensierino io lo farò così come altre mod che mi stuzzicano la fantasy. Rilassati. 12,5,8 metri troppo. Ma ne manca una. Sono belli enormi questi gambi. Questi. Questi sono molto grandi. Questi. 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 È più piccola rispetto a quell'altro lì, è più piccola. È più piccola che l'altro. È più piccola. La devo comprare. 12, 18 metri. 270 cavalli. È più piccola. È più piccola. È più piccola. È più piccola. 71 ore di lavoro. 72 ore di lavoro. Dovuto al fatto che il campo ha cambiato le dimensioni. Quindi la seminatrice è sottodimensionata per fare un lavoro, diciamo, rapido ed efficiente sui terreni. È più piccola. È più piccola. Quindi la dimensione è più piccola. 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 particolare. Perché qua altrimenti... sarebbe stato un po' problematico piantare il mais. stavo quasi per incastrarmi infatti quello in realtà voleva prendere il volo eh ho sbagliato a schiacciare il tasto e infatti è partito il touch tovolo lì di apertura dei flap ora ci divertiremo ah questa è quella piantatrice che per caricarla bisogna aprire le ali altrimenti non si apre il portellone di carico quindi ora bisogna aprire le ali allora le ali ecco qua oh mamma solo duemila ecco qua io che ci bacio ecco qua vediamo un po' se riusciamo a completare il lavoro qua ah ma per quanti soldini se ne stanno andando qua ok e vado a vendere l'altro chissà quando me lo guardano ho sto mezzo devo scaricare anche ecco qua C'è un po' di lavoro da rifare qua. Maybe I have to work so much. Allora, scarichiamo un attimo quando ce ne stanno qua. Ottimo, abbiamo risparmiato sui semi da eventualmente acquistare. Allora, questo lo stacchiamo. Nel frattempo chiediamo a un collaboratore, operaio, operatore, la gentilezza di continuare il lavoro, nel frattempo che noi andiamo al concessionario a vendere la vecchia attrezzatura. So, I asked the cooperatore to do the job for us while we go to the shop. and we go to sell the holded cedar machine. Maurizio, hai capito? Oggi quanto ho speso qua? ho speso 800, 200, ho speso all'incirca 300 mila euro, mamma mia. però adesso vedo un pochettino se riesco a recuperare qualcosina vendendo semi di sodio o cose del genere. Sì, poi devo cambiare l'altra seminatrice al prossimo milione qua. ma mi sa che la prossima volta metterò un silos nel quale caricherò tutto un materiale da vendere fra cui semi di toia. bella sì che si fanno dei bei recuperi. andiamo un po' più avanti, perfetto. Allora, questo è il mitico fiat con cui praticamente ho iniziato la serie sulla mappa DLC Alpine. e non me ne sono mai mai disfatto, nonostante abbia tantissime ore di lavoro. acquistato usato con cinque ore. abbiamo recuperato una bella sommetta direi 54 mila euro. ho recuperato un quarto della somma spesa. ottimo. in questo momento. vendendo l'ultima macchiniera. ho trovato un ottimo di argomento, e ora prenderò Be... So easy Ah no, devo andare lì là perchè in testa è già stato piantato quindi non posso passare più, qui c'è il nostro impianto di biogas, una biodiesel di biodiesel plant, lo stesso che Giro qualche tempo fa ha utilizzato anche nella sua serie, e lo consiglio a tutti quanti perchè con i mezzi più pesanti con un po' di colza e tutto quanto riesci comunque a risparmiare un po' di soldini, e quando inizi diciamo l'investimento iniziale, la spesa e versi è abbastanza esosa, però poi la recuperi perchè gli scarti di lavorazione ti producono insilato quindi puoi decidere di vendere, oppure se hai le mucche di poterle utilizzare appunto dannolo per cibare le amiche mucche. Ehi ragazzi, quindi ragazzi, quindi ragazzi, io ti consiglio di usare il mod di biodiesel mod, perché ti guadagni molto di money, ti necessitano di produrre biogas, colza, come si chiama, il prodotto, il mod è questo è questo the biodiesel canola you can you can produce with this one with the colza ecco qua sta consumando un bel po di semi purtroppo il problema di questa seminatrice è che contiene molto fertilizzante e pochi semi the worst thing of this seeder is that contain less seeders less seed and a lot of fertilizer that's all I made you I fixed I fixed the problem of the used machinery now is working better we can do better we can do better almeno così con una passata facciamo il doppio del lavoro di prima in one row we do the double of the work we do in past ah ma questo però fertilizzante lo stava proprio dispensando proprio quindi devo mettermi a cavallo su questa riga so i must take the this line hold the line the middle of the tractor at the middle of the tractor so i must keep the fourth line in the center of the tractor so i must keep the fourth line in the center of the tractor bisogna arrangiarsi qua se capite il concetto dicevo che con questa seminatrice per andare proprio a fila a fila a fila di lavoro fatto per bene devo accavallarmi alla quarta linea questa è 12 metri quindi significa che ogni linea di questa è un metro e mezzo di larghezza più o meno e più o meno si spiegazione come come la reputi questa spiegazione come presidentissimo vado bene per fare il segretario del trattore qua o dici che devo fare ancora un po' di gavetta come trattorista ma che si dice trattorista apprendista allora la spiga radio eh magari allora individuiamo dovrebbe essere qua uno e un po' allora uno due tre quattro sì questa no non è quella in effetti ho sbagliato a me qua devo anche caricare il macchinario visto che mi trovo quasi quasi ce l'ho portata di mano ok maurizio max grazie per essere passato in live grazie per la compagnia grazie per le quattro chiacchiere e come sempre grazie per il sostegno al canale e buona carica batteria e buona carica batteria ciao un abbraccione grazie e buona cena anche a te e buona carica fertilizzante ah ma questo è tutto fertilizzante qua proviamo proviamo eventualmente rabbocchiamo allora allora so uno due tre one two three third line non mi trovo che che non mi trovo adesso che 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 in the middle of the two lines as there was a train running on the railroad this machinery is 12 meters large the dissemination is wide 12 meters thank you for watching thank you to be here and thank you for your support grazie di essere qui ma soprattutto per il vostro supporto al canale brecco a canale brecco a canale cqdx 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 ah qua manca una linea . . Allora, io quasi quasi direi di tracciare una linea lungo la parte bassa del campo. So, I will try to see the lowest part of the terrain. I don't know why you haven't seen the rain. Falling down in a sunny day. I don't know. I don't know. Water... Mmm... Mi che passaggio a filo sul filo del rasoio. I don't know. 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 No worries, you know where. Shhh... Ticca, ticca, ticca. Ticca, ticca, ticca. Ticca, ticca... Ticca! Ticca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io direi di andare a riempire il serbatoio della piantatrice e della seminatrice. Sorry for my bad English. Ciao. 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 line zero is where the last part of machinery keep to seat the seats but not in this case I must stay on the line one, two, three on the third line let's go in questo momento sto finendo di piantare del mais I am going to finish planting mice finish finish I want to finish is this the world we creating? no 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 is this the world we creating? love of my life love of my life love of my life can't you see bring it back bring it back qua quindi una volta a cavallo e una volta in mezzo ok so once you go through two lines then another time you must go on the you must stay with the center of your tractor in the middle of the third line you must count the sitting finish line so one, two, three, four in this case I am through the third and the first line this machinery the planter that I am using is it's 12 meters long so one, two, three, five six 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 Grazie a tutti. 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 In the middle of the line, on the line, through the line, 12 meters long. Grazie a tutti. Finish. Shhh. Ok. Ok. In the inner box. Ok. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok. 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 non mi conviene non è conveniente per me in questo momento ah me la mi sono scordata non mi sono scordata l'ai scordato la line un po' per un po' un po' è non I forgot a lotto piece of ground to seed. Agaba, Agaba, they're right, they're right. And I forgot a lot to be. I forgot to be. I can't believe in a lot. I can't believe in a lot of that. But I can't believe in a lot of that. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quasi quasi andrei di qua. Ok. Ok. Quindi questo è tutto fertilizzante. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Small Machinery for Small Budget. Macchinari piccoli per budget limitati. E' questo credo sia il principio per poter iniziare. Poi magari dopo, un'altra iniziate a vedere la crescita del capitale, allora si può anche iniziare ad acquistare macchinari leggermente più costosi. Al momento però mi conviene acquistare macchinari di valore non particolarmente alto su low budget, low money to spend, low machinery, low health machinery. No money, no arty. No money, no arty. No money, no arty. No money, no arty. 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 Grazie a tutti 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 Tempi di lavorazione Grazie a tutti 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 Thank you Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Benvenuti a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti This is Un organe Grazie a tutti 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 Passo Grazie a tutti 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 Prendiamo il Grazie a tutti 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 e poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti